Maximum, via Raffaele Luciano, Cava dei Tirreni, Salerno, telefono 089 46 11 64. È tornato prepotentemente d'attualità nella città metelliana l'allarme sicurezza. Infatti, diversi sono i furti registrati nella settimana appena trascorsa. In particolare sabato pomeriggio, i laddi sono entrati in azione a via Carillo. Sfruttando l'assenza dei proprietari di casa, i malviventi si sono introdotti illecitamente nell'abitazione, forzando la porta d'ingresso. Dopodiché hanno provveduto a sbarrarla, servendosi di una sedia, per rendere difficoltoso l'eventuale ingresso di qualcuno durante il furto. Ed in effetti è probabile che i manigoldi fossero ancora all'opera quando sono rincasati i proprietari, subito insospettiti da strani rumori. Tuttavia, mentre loro difficoltosamente tentavano di aprire la porta ostruita, i ladri sono fuggiti con il bottino, denaro contante d'oro, dalla finestra. Sul posto è prontamente giunta la polizia, che però non ha potuto far altro che prendere nota dell'accaduto. Nei giorni scorsi, invece, appreggiato, più precisamente in località Starza, i ladri hanno fatto irruzione in un appartamento. Tuttavia, spaventati dal suono dell'allarme, sono immediatamente scappati via, senza sottrarre nulla. E questo, però, solo uno dei tanti casi che recentemente stanno seriamente minando la quiete dei residenti della zona. Ad essere estremamente interessate dal deprecabile fenomeno, anche le località Petrellosa e Santa Rosa, dove dalle 19.30 alle 23, non di rado, le abitazioni, in assenza dei proprietari, ricevono visite indesiderate. I cittadini sono esasperati dalla minaccia di trovarsi un ladro in casa o di vedere i loro beni sottratti, e fanno appello alle istituzioni preposte e dalle forze dell'ordine, affinché vengano presi i provvedimenti necessari a porre rimedio ad una situazione divenuta in questa fase di recrudescenza davvero preoccupante.